Ciao, sono Fabio Anikas, sono il dirigente di chitarra del centro di musica moderna Live Music Academy di Sarzana in provincia della Spezia. Oggi voglio farti sentire un famosissimo brano di Eric Johnson, uno dei più grandi chitarristi secondo i miei gusti. Questo brano è Manhattan, è stato un brano credo uno dei più famosi ed è stato da lui stesso eseguito anche nel corso di uno dei famosi G3 insieme a Satriani e Stivai. Utilizzerò per questo brano questa chitarra, è una Simil Stratocaster APS e di Alessandro Pizzi in provincia di Chieti e lui realizza bellissime chitarre di luteria, chiaramente fatte da lui interamente a mano e per far questo utilizza dei componenti di alta qualità e dei legni di una certa importanza. Quindi hai in questo caso questo simil strato, ha come puoi notare un bel ponte, un Wilkinson, un capotasto in grafite, meccaniche autobloccanti come puoi ben vedere e gran parte anche del suono, chiaramente come ti dicevo prima, è dato soprattutto anche dei legni. In questo caso abbiamo un manico ad esempio che è molto molto abbastanza importante, è grosso, non è piccolo, però questo come sentirai soprattutto ad esempio sui suoni puliti incide moltissimo e comunque sia, è una chitarra molto versatile. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.